Non dobbiamo parlare di speranze, dobbiamo parlare di certezze. Noi dobbiamo costruire un paese a misura dei giovani se vogliamo far crescere l'economia, l'occupazione e il paese. E se non si realizzano quelle condizioni che non sono quelle di fare lavoro per decreto con i bonus che prima vengono assunti, poi vengono licenziati, che non si fa il turnover nelle aziende, non si apre il turnover nel pubblico impiego, ora si parla di poter assumere 500.000 lavoratori nel pubblico impiego. Non c'è da parlare delle vecchie piante organiche, bisogna parlare dei fabbisogni, perché ci sono luoghi di lavoro dove non si può lavorare più perché manca il personale, ci sono realtà dove non si può lavorare perché si rischia la sicurezza e la salute, penso a pronti soccorsi, ospedali e quant'altro. bisogna fare in modo che il paese riprenda il cammino e si fa con investimenti pubblici e privati e ci sono le risorse per poterlo fare, l'anno prossimo proporremo una grande vertenza unitaria per la questione fiscale. In Emilia Romagna si è fatto un patto per il lavoro, un esempio positivo da esportare? Sì, non solo come esempio positivo, che al di là dei contenuti c'è fatto della partecipazione, del ruolo delle forze sociali con le amministrazioni, perché solo le riforme che funzionano sono quelle che si fanno assieme ai diretti interessati, quelli che si fanno contro i diretti interessati non si realizzano mai.